Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video. In arrivo una notizia socche riguarda la nuova fiamma di Totti. L'ex calciatore potrebbe essere di nuovo padre? Quando Francesco Totti e Ilari Blasi hanno annunciato la separazione a luglio 2022 hanno lasciato sgomenti tutti i fan della coppia e non solo Voci di divorzio circolavano da un bel po' le quali, però, erano state smentite subito dai diretti interessati Nascondere il distacco tra Ilari e Totti era diventato sempre più difficile e i due sono stati costretti ad annunciare la separazione con due comunicati distinti Inutile dire che l'ombra di Noemi Bocchi, la nuova ragazza di Francesco Totti, continua ad alleggiare all'interno di casa Totti, Blasi ed adesso arriva la notizia che sorprende tutti ma che in molti si aspettavano In questo chiassoso caos mediatico i paparazzi e giornalisti cercano le risposte sul triangolo più chiacchierato d'Italia tra dichiarazioni di presunti amici, foto rubate o indizi social Le tre parti mantengono, però, la privacy cercando di preservare i rispettivi figli Ilari si è rifugiata in Tanzania per scappare dal clamore mentre Totti è rimasto in Italia, nella villa a Sabaudia che un tempo divideva con Ilari Questi mesi estivi hanno sancito la separazione più netta e i rapporti sembrano più tesi che mai Mentre i gossip sulla presunta coppia Totti e Noemi si rincorrono, Ilari corre tra le braccia dei figli e della sua famiglia d'origine Adesso arriva la notizia bomba che può scuotere una situazione già abbastanza precaria Noemi ed un pancino sospetto.Tra l'ex calciatore e Noemi pare non essere per nulla una relazione passeggera Tutt'altro i due si frequenterebbero da parecchi mesi e forse ancora prima di annunciare la separazione da sua moglie Ilari Si dice che i coniugi Totti si siano allontanati con il tempo e ognuno di loro avrebbe frequentato persone diverse Quello che è certo è che Totti è stato pizzicato uscire da casa di Noemi più volte a testimonianza di un rapporto ancora in essere Noemi, ritrovasi nel caos mediatico, è stata fotografata di recente con un pancino sospetto che fa pensare ad una gravidanza con il suo compagno Totti che lo renderebbe padre per quarta volta Una notizia soc che ha fatto storcere il naso non solo ai fan dell'ex coppia romana per eccellenza ma che a quanto dice Alfonso Signorini potrebbe non essere neanche vera Signorini risponde alla news.Alfonso Signorini, direttore di chi, è ben temprato per gestire questa situazione e sicuramente ha conoscenza circa la veridicità di una fonte o meno Secondo il giornalista e conduttore Noemi Bocchi Noon sarebbe incinta Intanto, come il direttore afferma, Noemi Bocchi è di perfetta forma e Noon mostra alcun tipo di pancino sospetto In più, pare che Noemi sia stata immortalata mentre entra in una clinica per fare visita ad un'amica e questo è stato sicuramente frainteso come indizio di gravidanza Sul fronte Noemi, tutti Noon ci sono novità. E dai diretti interessati Noon avremo presto notizie dirette Anzi i due devono continuare a mantenere il più stretto riservo soprattutto in vista dell'imminente divorzio con la moglie di lui, Hillary Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video